Ci siamo ragazzi? Allora, adesso andiamo a vedere come si installa, come si crea un access point falso, insomma, per lo scopo di cui vi ho parlato nel video precedente. Se non l'hai visto, qui in alto trovi il link per guardare il video precedente. Allora, per creare un access point fasullo procediamo in questo modo molto semplice. Allora, in questo caso io sono collegato alla console di Kali nel mio Raspberry Pi, dove al momento è collegato con il cavo di rete e una scheda Wi-Fi. Ma l'obiettivo è avere due schede Wi-Fi, perché una sarà quella collegata al cellulare che permetterà l'accesso a internet, l'altra sarà quella dell'access point vera e propria. Comunque, da root, quindi devi scrivere sudo su, io sono già in questa modalità, e scriviamo git clone, il link che vado a incollare adesso lo troverai poi in descrizione, e premi invio. Poi, una volta che ha scaricato lo script, cdwef, tutto maiuscolo, vediamo che cosa c'è, abbiamo questo file, setup sh, quindi è bash, bash, setup sh, e premi invio. Ora, io chiaramente questo l'ho già fatto, questa operazione, però lo rifaccio, quindi magari è anche un po' più veloce, perché non deve scaricare alcuni moduli aggiuntivi che, quando lo fai la prima volta, lo deve scaricare. Comunque ci mette veramente poco. Vi ricordo che questo è solamente a scopo educativo, e in questo caso, io faccio queste prove sui miei device, quindi sui miei telefoni, e tutto il mio ambiente personale. Non lo dovete fare per scopi non lesciti, quindi solo sulle vostre apparecchiature. Allora, a questo punto scriviamo wef, e premiamo invio. Come vedi qui ci dà delle opzioni, quella che ci interessa a noi è questa. Meno i, che sta per interface. Nel mio caso, clear, se io scrivo if config, vedi che ho due schede di rete, ma quella che mi interessa a me è la wlan 1. Molto probabilmente tu avrai solo la wlan 0. Quindi, io scrivo wef meno i wlan 1. Premo invio. Poi, qui abbiamo alcuni dati, tra cui network card mode managed, poi network card interface wlan 1, e va bene. Quindi l'opzione che dobbiamo digitare noi è 7, perché dobbiamo mettere la scheda modalità monitor. Una volta fatto questo, procediamo con l'opzione 8. Quindi, ci chiederà il nome dell'access point, e lo chiameremo per esempio free wifi. Il canale, diciamo 9. Qui ci dice, non mettere nessuna password se il wifi è pubblico. Ok? Qui ci chiede quale interfaccia è collegata a internet. Nel mio caso è th0, ma nella realtà sarà wlan 2, per la seconda scheda di rete wifi. Premiamo invio. Crea l'access point. Adesso mi chiede che template voglio usare. Dropbox, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Microsoft, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio, proviamo LinkedIn. Invio. E a questo punto lui è in azione. Guardiamo se ci ha creato il nostro access point. Prendiamo il telefono. Ora, sto usando un telefono che non gli do molta stima, eh, sinceramente. Però, facciamo partire il wifi. Free wifi. Ora qui dice, checking the quality of your internet connection. Che però, non sembra molto bella, perché dice che non c'è la connessione a internet. Vediamo un attimo. E proviamo a collegare. Allora, qui c'è un problema. Che poi, in realtà, non è un grosso problema. Questo cellulare che sto usando, che è un Samsung, uguale a questo qui, sì, ho molti telefoni, e ha un software installato dentro che impedisce di aprire le landing page, o più comunemente chiamata splash page. Però ti posso far vedere ugualmente che funziona. Allora, torniamo un attimo qui. Apro Chrome manualmente e metto l'indirizzo IP che mi interessa, che è questo, http 10.0.221 e vedi che è apparsa la pagina di LinkedIn. Per esempio, ora metto le credenziali. Inserisco le credenziali per collegare my internet. Per esempio, crazy.net .info at gmail.com password biancaneve neve e i sette nani e premo sign in e ovviamente lui mi dice che non funziona. Ora, guardiamo invece dalla parte di qua, quindi qui, che cosa succede? ed ecco qua. Ho username e password. Questo funziona con tutti i Facebook, Instagram, eccetera. Attenzione! dovete sempre porre attenzione quando vedete le free wifi. e ancor più, se per esempio, io faccio ancora sign in, questa volta lui mi dà la pagina di LinkedIn, quella vera, tant'è che mi ha aperto l'applicazione. Torniamo un attimo indietro e ti faccio notare una cosa, se io riapro questo link, HTTP 10.0 2211, vedi qui in alto, anzi non lo vedi perché ci sono io, qui c'è un triangolino con un puntino esclamativo, questo vuol dire che il sito non è attendibile. Ora, di per sé questo qui è un segnale molto importante, perché il sito deve essere HTTPS, però anche qui non è garantito al 100%, perché volendo, come dire, creando uno script più elaborato, posso far sì che il certificato sia valido, perché lo compro. Quindi è valido, lo inserisco nello script, lo script lo carica, insomma ora si va un po' troppo nel tecnico, e quindi te lo vedi che è valido, ma tuttavia il funzionamento è uguale. Altra piccola nota di questo software, facciamo CTRL C, quando lo fai partire, quindi quando ti trovi qui nel menu principale, se scrivi help mi sembra, vedi ti dà alcune cose. Ecco, ti consiglio subito, appena lo fai partire, di fare l'update, così lui si scarica tutti gli aggiornamenti, se ci sono eventualmente, oppure le varie modifiche che lo sviluppatore ha fatto, se le ha fatte chiaramente. E a questo punto poi lui ti fa l'update e finisce qui. Poi il menu, quindi mentre fa l'update, chiaramente ha altre funzioni, quindi puoi creare degli attacchi attivi o passivi alle reti wifi, eccetera eccetera, ma questo è un altro discorso che non è, come dire, attinente a questo video. Quindi, per il momento il video termina qui, con la power bank e le due schede di rete attive, rimane tutto attivo per circa 5 ore, tempo più che sufficiente per andare in spiaggia e provare a fare questo test. E l'unica cosa, chiaramente, è che prima di andare devi far partire lo script, devi far partire tutto e poi, insomma, vai. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace, se ti vuoi unire al gruppo di Telegram, in descrizione trovi il link per fare il join, quindi per entrare nel gruppo di Cresinet su Telegram. Se hai qualsiasi domanda, scrivi un commento e io ti risponderò, o comunque cercherò di aiutarti dove hai eventualmente problemi. Al prossimo video! Al prossimo video!